Musica Penultima partita per il girone di ritorno, l'avevamo già detto, questa volta questo derby casalingo purtroppo vi ha visto, purtroppo va per voi, ma insomma forse ha dato anche un po' di soddisfazione alla San Michelese perché avete pareggiato 1 a 1. Cosa è successo mister? Intanto in casa loro. Sì, abbiamo pareggiato in un derby dove sicuramente loro ci tenevano a chiudere bene e con onore il campionato anche se erano matematicamente retrocessi. Erano perché? Ora non sono più retrocessi? Sì, già da quella partita erano matematicamente retrocessi e allora la partita è stata da parte loro giocata giustamente con molta intensità e un po' meno da parte nostra. E allora è uscito fuori, secondo me è un brutto pareggio perché abbiamo giocato entrambe le squadre male. Quindi ereduce dalla vittoria, eravate quasi rilassati, diciamo così, o erano rilassati i ragazzi? Ma sì, credo che anche ingosciamente i ragazzi ormai hanno un po' mollato. Andando anche contro l'ultima in classifica forse era questo? Sì, ma infatti prima della partita ho detto ai ragazzi che avevamo tutto da perdere e niente da guadagnare in questa partita. E infatti di fatti è successo questo. Loro chiaramente, come ho detto prima, hanno fatto una buona partita perché ci tenevano incontrare una vicina, un derby, contro molti calatini che ci sono sia in questa squadra che nella loro. Quindi è nata fuori una partita per loro importante e per noi meno perché ingosciamente, ripeto, non abbiamo fatto una grande partita. Adesso l'ultima vi vedrà impegnati in casa contro? Contro il Canicattì. Sarà un'altra partita... Non rilassata, speriamo. Spero proprio di no, anche perché si fanno brutte figure e in questo senso diamo un brutto segnale, nel senso che la squadra secondo me deve crescere anche da questo punto di vista. Non esistono partite né facili, né da ultima spiaggia, né da vacanza. Le partite si devono disputare con intensità e se non capiamo questo vuol dire che siamo piccoli. Quando sarà la partita e a che ora? Sarà domenica alle ore 16. Qui presso i campi Pino Buongiorno, quindi invitiamo a partecipare, anche se da fuori? Sì, invitiamo anche perché sarà l'ultima partita di campionato. Credo che questi ragazzi meritino almeno un saluto, un applauso, credo che se lo meritano tutti. Allora vi siete già salvati, l'avevamo già detto la scorsa volta, adesso come si presuppone il futuro? Cosa avete in mente? No, adesso io credo che dobbiamo un po' staccare la spina, rilassarci e fare un po' di vacanze. E poi sarà la società a decidere il futuro, sia dei calciatori che di tutti. In ogni caso il bilancio è più o meno buono di mister Nicolosi? Sì, ritengo proprio di sì perché l'obiettivo che ci chiedeva la società era la salvezza. L'abbiamo raggiunta ampiamente e credo meritatamente, per cui siamo soddisfatti. Dunque un pareggio certamente soddisfacente per la San Michelese, per voi credo di no. Come l'avete vissuto questo pareggio e cosa è successo in campo? Raccontami un po' di questa partita, un po' strana. Sinceramente è stata una bruttissima partita in tutti i sensi, anche da vedere perché l'abbiamo sottovalutata parecchio. Questa San Michelese che era già retrocessa e non ci possiamo permettere questi errori anche perché era un derby. Però purtroppo è andata così e ci fa riflettere molto perché è un peccato pareggiare con l'ultimo in classifica. Quindi dicevo con il mister forse eravate troppo rilassati, anche i riduci della vittoria, il fatto che già vi siete salvati la partita precedente. Cosa è che non ha funzionato? E come è stata proprio in campo la partita? Nello specifico come si è svolta? Chi ha prima fatto il gol e chi ha pareggiato? Sì, diciamo che è stata una partita molto brutta, tatticamente, perché loro erano una squadra comunque retrocessa e quindi non avevano un bel calcio da offrire. Cosa ci guadagna una squadra che già è retrocessa a voler per forza dare qualcosa? Invece voi di contro eravate già salvi? Lo spirito psicologicamente era quello, voi già salvi, loro già retrocessi, però nonostante tutto? Sì, loro era di più una questione personale perché eravamo in un derby, ci conosciamo tutti, San Michele, Caltagirone, e quindi volevano magari dimostrare che la retrocessione magari non li riguardava pienamente e volevano magari fare bella figura con una squadra che invece si è salvata con parecchie giornate d'anticipo. Poi ha giocato un brutto scherzo anche il rilassamento totale da parte della squadra e ciò non può avvenire in queste situazioni. Bene, chiusa questa parentesi, adesso vi state preparando per la prossima, la finalissima, diciamo così. Innanzitutto speriamo che ci sia un bel pubblico, insomma venga a incitarvi perché l'ultima partita quantomeno... Speriamo di aiutare in bellezza quest'anno che è stato abbastanza bello, impegnativo, abbiamo raggiunto l'obiettivo parecchie settimane fa e siamo rilassati, però vogliamo fare bella figura davanti al nostro pubblico, speriamo caloroso e numeroso per regalare l'ultima vittoria di quest'anno calcistico. Tu giochi anche negli Juniores, come si è concluso il campionato? Cosa sta succedendo adesso venerdì? Avete un importante appuntamento? Sì, fortunatamente abbiamo vinto il campionato Juniores facendo... Una play? No, diciamo di no, quasi. Su 18 abbiamo vinto i 17 e venerdì ci sarà il primo test importante per noi, gli ottavi di finale contro il Giarre, una squadra che ha vinto anche il campionato. Finalmente sarà un test importante perché ci confronteremo con una realtà come Giarre, che sappiamo tutti, ha sempre fatto calcio ad alte categorie e avrà sicuramente dei ragazzi all'altezza del nome che portano. Quindi dopo questi ottavi ovviamente vincerete o comunque andrete a Giarre? Sì, sarà... Come si svolgono tecnicamente? Sarà andata in ritorno, la prima qui venerdì e venerdì prossimo andremo noi a Giarre. Sarà... sarà un'andata in ritorno secca, diciamo, e speriamo di riuscire a passare questo turno per continuare questo sogno che per fortuna siamo tutti in grado di vivere. Allora, in bocca al lupo! Crepi il lupo! Grazie. È finito quasi un anno perché adesso insomma arriva il momento più bello, diciamo più intrigante, anche se in realtà sono tutti impegnativi, no? Quello dei play-off. Giocherete tra una decina di giorni, più o meno, contro il Canicati, squadra Caltanisetta, un squadra che tra l'altro vi si auspicava il mister, ma penso anche voi perché avete conosciuto questa squadra. Innanzitutto, un bilancio di questo anno, come è stata la tua esperienza personale quindi in questo campionato e cosa ne pensi quindi di questi momenti che adesso andrete a vivere, quindi come vi state lavorando, come vi state impegnando? Sì, vabbè, è stato... Il tuo nome? Monaco Stefano, e faccio il terzino. È stata una bella annata comunque, anche se siamo partiti male rispetto a quello che ci aspettavamo, però ci siamo ripresi, abbiamo vinto anche l'ultima partita che era molto difficile, quindi ora andiamo a giocarci play-off. Speriamo che vada tutto bene. La mia esperienza personale è stato rimasto molto colpito da questa squadra, è andato tutto bene, alla fine forse non come ci aspettavamo. È stata la mia esperienza in un campionato per te? Sì, in questo campionato regionale sì, è un livello comunque difficile, non è stato facile giocare, comunque riuscire a giocare sempre bene, ma ci siamo riusciti. Qualche disputate tu? Ma quasi tutte, però qualcuna mi sono fatto male, ho giocato di meno, comunque è andata bene. Qual è quella che ricordi meglio? Che ti piace, cioè insomma che ti ha dato soddisfazione proprio? L'ultima col Modica è stata la più importante e la più bella, perché comunque era molto difficile vincere, erano primi in classifica. E per ricordare qual è stato il risultato? Abbiamo vinto 1-0 fuori casa e siamo riusciti ad arrivare ai play-off. Modica prima in classifica? Sì, prima in classifica, imbattuta in casa da molto tempo, quindi abbiamo fatto una grande impresa. Invece quella che ricordi, o anzi che vuoi dimenticare, diciamo così? Forse quella in casa con Ragusa, abbiamo perso 3-0, abbiamo sbagliato anche un rigore, è andata male. Ed era una partita importante. E adesso ai play-off come vi state preparando? Ma ci sto preparando bene, alla fine... Con ansia, no? Ma io non tanto, perché alla fine è una squadra con cui abbiamo giocato, sappiamo come giocano, anche se sono bravi, quindi ce lo possiamo fare. Benissimo, grazie. Buongiorno. Il tuo nome è anche... Sono Marvin Cucchiara e faccio il difensore centrale qui a questo sport. Benissimo, le stesse domande più o meno, raccontami un po'. Vabbè, intanto il campionato, diciamo, siamo arrivati all'obiettivo principale, che era quello dei play-off, anche se ci siamo qualificati i quinti. Potevamo arrivare più avanti, però alcune partite a qualche punto l'abbiamo perso per strada. Ora, l'ultima partita a Modica abbiamo... Per strada perché andavate fuori casa, per chi non... No, per strada perché abbiamo, diciamo, abbiamo sbagliato qualcosina, abbiamo regalato punti all'avversario. Quindi, ecco, li avete regalati, non li avete persi, no? Vabbè, una volta che li regali anche li perdi, però. Certo. Comunque, l'ultima partita l'abbiamo fatta a Modica, il Modica non perdeva in casa da circa due o tre anni, quindi è stata una vittoria non solo per i tre punti, ma anche per il morale, perché ci esalta e ci fa capire che abbiamo un gran bel gruppo e che arriveremo contro il Caltanissetta in casa loro più determinati di prima e cercando di vincere la partita. Che squadra è secondo te il Caltanissetta? Tu l'hai vista, hai giocato entrambe partite, andate e ritorno contro di loro? È una squadra che gioca a calcio, è una delle poche che gioca a calcio, nel senso che passa la palla, sovrapposizioni, scambi e quindi non gioca, diciamo, a buttare la palla. Quindi questa sarà una partita molto impegnativa e molto indensa dal punto di vista fisico, non solo mentale. Vi state preparando bene? Sì, sì, ci prepariamo al meglio, cercando di vincere la partita. Benissimo, grazie, complimenti per il lavoro che avete fatto come squadra e ovviamente ci vedremo prossimamente e insomma cercheremo di capire il risultato, speriamo positivo, mister. Speriamo un risultato positivo. Allora, mister, io ho chiesto a loro un po' un bilancio, ci avviciniamo così, insomma, un bilancio tuo, già l'abbiamo fatto le scorse volte, adesso però cerchiamo di quadrare un po' la situazione. Giocherete tra una decina di giorni, effettuerete i play-off contro il Caltanissetta, insomma, lasciate il micro. Sì, vabbè, come hanno detto bene i due ragazzi, Stefano e Marvin, hanno fatto un quadro complessivo della situazione. Ora ci stiamo preparando, per fortuna, diciamo, abbiamo avuto un piccolo vantaggio che non giocavamo questa settimana, ma giochiamo la prossima, abbiamo più tempo per poterci preparare, anche perché devo recuperare molti ragazzi che vengono da infortuni abbastanza lunghi, quindi magari, sai, 8-10 giorni in più si può recuperare qualcuno e poi devo recuperare anche un pochettino di ragazzi sotto l'aspetto proprio tecnico e atletico, perché qualcuno ha avuto la febbre, il periodo di infortuni e via di sé, recupereremo sicuramente nel migliore del modo. Ci prepariamo per giocare la partita a Caltanissetta, come ho detto sempre e hai ribadito anche tu, per me è la squadra più forte del campionato ed è un piacere ed onore giocare con una squadra come il CL Calcio, perché sono convinto che la partita ce la giocheremo alla pari. Questo era un weekend ricco di appuntamenti, tra l'altro tutti molto importanti, no? Per l'Usa Sport. Per quanto riguarda la società, sì, è enormemente ricco, enormemente importante, perché come ho detto, oltre gli allievi abbiamo questo sabato, questo sabato giocheranno i giovanissimi contro lo Junior Vittoria, anche lì partita di play-off, quindi sabato giocheremo a Vittoria, anche lì una partita da dentro e fuori, tra virgolette, perché bisogna vincere a tutti i costi, come del resto anche negli allievi. E poi venerdì, questo venerdì giorno 6, alle ore 16, qui al Pino Buongiorno, arriverà il Giarre, squadra che ha vinto il campionato di Juniors dell'altro girone, quindi abbiamo lo scontro diretto per i play-off con Usa Sport contro il Città di Giarre. Venerdì e poi domenica c'è l'ultima partita della nostra prima squadra e domenica mattina, anche voglio ricordare, c'è la campionata esordienti che parte con la seconda partita, domenica mattina giocheremo contro i ragazzi di Mister Gulizza, gli esordienti, contro Catena Nuova, domenica mattina alle 10, qui al campo. Ma anche le ragazze giocano? Le ragazze la prossima settimana. La prossima settimana andranno ad affrontare, se non erro, il Palagonia nella finale play-off, dopo che hanno vinto la partita con i Ramacca, sia all'andata che al ritorno, quindi matematicamente vanno in finale contro, se non erro, il Palagonia. Quindi una situazione bella per quanto riguarda tutti i reparti della società, a partire dagli esordienti, come detto prima, a finire alla prima squadra. Benissimo, allora buon lavoro per quello che adesso riguarda i prossimi appuntamenti, sia di te, sia tuoi, cioè voglio dire che del resto della società, perché sono adesso quelli che forse fanno un po' commettere in fibrillazione di più i ragazzi, gli spogliatori. Sì, mettono un pochettino, non di ansia, perché l'ansia è una parola brutta, un po' di adrenalina, ecco. Sicuramente sono i momenti, i giorni, dove si dovrebbe teoricamente raccogliere i risultati, i sacrifici che abbiamo fatto tutto l'anno. Purtroppo nel calcio, in una partita, si decide una stagione e noi sono convinto che tutte le nostre squadre, sia, come ho detto prima, dalla prima squadra a finire agli esordienti, ci faremo trovare pronti. Poi il campo darà le risposte, speriamo che siano per noi positive. Parliamo ancora una volta di basket. Questa sera non c'è, riferi, però c'è un buon sostituto a Francesco Bottari, segue questi ragazzi, tu naturalmente hai esperienze del basket, giochi anche all'interno della squadra. La squadra più grande, diciamo, che racchiude un po' tutte le età, gioco da circa 25-26 anni, più o meno, da quando avevo 4-5 anni. Oggi sto seguendo questi ragazzi che hanno fatto un po' un allenamento, ora stanno facendo una partita fra di loro, racchiude un po' l'età a questo gruppo da 2000-2001, così, e stanno cominciando a affrontare un po' le amichevoli, anche a confrontarsi con altre squadre del circondario. La tua squadra come va invece? La nostra quest'anno siamo stati un po' fermi a livello di campionato, però diciamo che stiamo cercando di formare un gruppo di prima squadra che ultimamente ha subito un cambio generazionale, quindi ultimamente ci stiamo attrezzando per ricostruire una prima squadra che possa affrontare anche campionati un po' più competitivi nelle prime divisioni o promozioni all'interno della FIP, del campionato di basket nazionale. Per aver fatto più di 20 anni di basket e quindi continuare a praticarlo, c'è un motivo particolare per cui questo sport è non un altro? Ma questo sport è uno sport meraviglioso, meraviglioso perché riesce a fare stare i ragazzi insieme, riesce a farli crescere con uno spirito di squadra molto unito e direi che se tornassi indietro rifarei sempre questo sport perché è uno sport avvincente, uno sport allo stesso tempo molto tecnico ma anche molto fisico e che però crea molto gruppo e molto spogliatoio, quindi è uno sport che se fatto con il cuore prende davvero e quindi questo è l'auspicio che possa essere trasmesso a tutti questi ragazzi qua intorno. Per diventare tecnico allenatore? Ma diciamo che ancora non si deve fare un po' di scala. Sarebbe però auspicabile? Ma sarebbe una bella scommessa diciamo. Grazie, allora conosciamo questi ragazzi e per ultimo poi parliamo con te che forse qualcosina in più me la puoi dire. Allora il tuo nome? Marco Federerenda. Faccio basket da ormai sei anni, sono qui da quando avevo sei anni con il mister Luigi Riferi. Mi trovo sempre molto bene, facciamo un allenamento a volte anche duro, delle partite con le amichevoli, generalmente Gela, Izzini, le paesine della Sicilia comunque. Sono importanti queste partite? Sì, in questi tempi stiamo andando bene, alcune partite abbiamo vinte e alcune pareggiate, credo solo due perse contro il Gela credo. Grazie. Emanuele, Reitan. Quanto tempo fai basket? Tre anni. Com'è questa esperienza? Bello. In questo gruppo come ti trovi? Benissimo. Quindi continuerai a fare basket per i prossimi anni, è uno sport che ti sta facendo crescere? Sì. Io mi chiamo Pierpaolo Luca, frequento questo sport da tre anni, mi piace molto soprattutto il gioco di squadra, l'allenamento che è, questa amicizia che si crea tra gli altri compagni, questo legame e quindi per questo mi piace, ma anche perché la tecnica di gioco, la tecnica, e mi piace molto anche il mister, è molto bravo a fare gli allenamenti, anche se come ha detto prima i nostri compagni sono un po' duri, però sono sempre belli. Mi chiamo Luca Impelizzeri e faccio questo sport da quattro anni, lo faccio perché mi piace, ho iniziato all'età di circa sette anni così, mi piace farlo anche se l'allenatore a volte è severo, però c'è l'allenamento... Ci sta, ci sta per crescere. Sì, anche se a volte ha ragione, perché è quando sbagliamo, però tutto sommato è un bello sport perché giochiamo tutti insieme, facciamo gioco di squadra e impariamo poi l'analitical. Mi chiamo Francesco Interlandi e frequento il basket da due anni e mezzo, possiamo dire anche tre anni, mi piace molto perché si crea un legame forte fra tutti i miei compagni, anche se qualche volta c'è qualche litigio, noi riusciamo sempre a pacificarci e giochiamo insieme perché noi ci vogliamo divertire e questo sport è veramente meraviglioso. Mi chiamo Adel Parone e faccio questo sport da due anni, due anni e mezzo e ho iniziato a otto anni e ho fatto questo sport perché mi piace tanto e appunto, come ha detto anche Francesco, si crea un legame di amicizia. Riccardo Drago, faccio questo sport da sei anni e ormai li conosco quasi tutti i miei compagni e si crea un legame più forte di un'amicizia normale e sicuramente anche si impara a conoscersi meglio e si cresce meglio. Abbiamo Luigi Rifeli come mister, è un bravo mister perché anche se è vero quando serve aiuta a giocare e ci dà consigli che servono molto. Grazie. Mi chiamo Emiliano Marzone, faccio questo sport da sette anni e lo faccio perché mi piace, perché ci sono tantissimi miei compagni e per bellissimi motivi. e poi abbiamo pure un grandissimo allenatore che anche se si arrabbia lo fa anche per noi perché ci insegna a insegnarci cose che sono giuste. A imparare il tagliare. Sì, esatto. Mi chiamo Dario Morganti e ho iniziato questo sport da quest'anno, sono ormai quasi cinque mesi. Prima ho fatto quattro anni di karate, però poi attraverso il mio amico ho conosciuto questo sport e mi ha appassionato. Quindi ti piace di più, ti tiene più in movimento? Sì, mi piace di più. La metodologia è diversa? Sì. Comunque tutto è bene? Sì. Siamo a buon punto, già i campionati stanno per finire, però la scuola calcio ovviamente continua a lavorare, continuerà a lavorare per tanto tempo, si fermerà per pochissimo come gli altri anni del resto. I ragazzi sono sempre più contenti perché tra l'altro adesso è arrivata la primavera quindi insomma fa anche più piacere averli qui. Allora intanto ci sono delle novità, che cosa è successo fino ad ora? Come novità oggi ho appena detto ai ragazzi che inizieremo un torneo denominato Champions League appunto perché prendiamo spunto dalle squadre della Champions League e suddividiamo per categorie, quindi per fasce di età, creeremo delle squadre con le magliette della Champions League e formeremo questo torneo che finirà poi con le fasi finali a fine maggio. Verranno coinvolti tutti i bambini della scuola calcio, come detto suddivisi per fasce di età e quindi sarà un ulteriore modo per confrontarsi tra di loro. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, con i bambini continuiamo sempre con i tornei, oggi gli esordienti sono fuori a giocare, campionata 11, i più piccoli invece si cimentano nelle amichevoli, ieri siamo stati a Chiaramonte, sono state delle belle esperienze perché a prescindere dal risultato si divertono sia i bambini ma anche i genitori perché cominciano a vedere piano piano i risultati del lavoro perché abbiamo iniziato a settembre e ovviamente da settembre ad ora ci devono essere dei miglioramenti, altrimenti il nostro lavoro non va bene. Per quanto riguarda gli appuntamenti col fisioterapista mi sembra che sono partiti, è una cosa importante, vogliamo spiegare la valenza di questo? Sì, noi abbiamo coinvolto il fisioterapista Sortino e sta collaborando con noi. La domenica in base ovviamente ai suoi impegni stiamo formando delle visite per i bambini che riguardano appunto l'aspetto fisico riguardante la colonna vertebrale, il modo di camminare e attraverso il fisioterapista che è una persona specializzata cerchiamo di migliorare sempre più l'aspetto fisico dei bambini. Ovviamente è una visita che il signor Sortino fa qui al campo assieme alla figlia, ad Alessandra Sortino e al figlio Filippo. Stiamo cercando di raggruppare per categorie, per fasce di età i bambini, cercheremo di finire entro maggio così tutta la scuola calcio verrà visitata dal signor Sortino. Perché voi siete partiti sin dall'inizio come scuola calcio e ovviamente poi anche con i ragazzi che fanno il calcio a livello più agonistico, basarvi innanzitutto sul loro aspetto fisico che è importante, quindi lavorate principalmente su quello. Sì, noi appunto con l'aiuto del fisioterapista Sortino che sotto il suo stretto consiglio seguiamo anche alcuni allenamenti inerenti appunto al miglioramento dell'aspetto fisico, ad esempio lo stretching che è consigliatissimo soprattutto dai bambini più piccoli, per quanto riguarda il modo di camminare, il modo di correre. I bambini a questa età non tutti ma alcuni hanno delle difficoltà e quindi noi cerchiamo attraverso la visita di trovare, di intervenire e cercare di migliorare quello che magari in questo momento può avere dei problemi. Appunto perché voi partite dalla base quindi giustamente si può fare un lavoro sin dall'inizio poi recuperarli dopo, infatti è sempre preferibile comunque anche i ragazzi fare iniziare uno sport a un'età un po' più piccola per poter appunto predisporlo fisicamente a qualsiasi tipo di attività sportiva. Sì, sì, ma il calcio, c'è il tennis, c'è il basket, la palla a volo, la piscina, purtroppo in questo momento la piscina è chiusa, però dico lo sport fa bene a tutti e bisogna iniziare da piccoli. Io attraverso dei progetti ho iniziato con la scuola, quindi i bambini di tre anni, quattro anni, cinque anni li seguo a scuola e ovviamente poi i risultati si vedono perché i bambini già da quell'età dovrebbero muoversi, purtroppo i genitori con i vari impegni li fanno muovere pochissimo e noi attraverso la scuola cerchiamo di creare appunto nel bambino quel processo di crescita che poi servirà non solo per lo sport ma anche nella vita di tutti i giorni. Ulteriormente con il calcio, con il basket e poi con lo sport in generale e attraverso poi l'aiuto del fisioterapista ma anche del nutrizionista perché noi stiamo cercando anche di creare questa figura all'interno della società perché anche l'alimentazione è un aspetto importantissimo per i ragazzini di questa età. Consigliare anche ai genitori cosa mangiare prima dell'allenamento, dopo l'allenamento, i cibi da evitare perché spesso i bambini fanno use, abuse. Si fa l'errore di farli mangiare prima per avere le forze, dopo li fanno abbuffare dopo che hanno fatto tanto sport, è sbagliato. Sì, purtroppo troviamo anche bambini che appena finiscono l'allenamento, patatine in mano, coca cola, panini e lo so purtroppo non dovrebbe essere questo anche corretto. Speriamo comunque più presto di avere anche nel nostro staff un nutrizionista che può dare dei validi consigli a tutte le famiglie. Benissimo, conosciamo quest'altro gruppetto, poi già sapete il prossimo appuntamento con Sortino? Dovrebbe essere fra due domeniche, però comunque poi ci incontreremo anche perché è bello intervistare anche i documentari. Documenteremo da vicino e vedremo anche magari i genitori. I genitori, sì, anche perché noi associamo la visita a delle partitine, quindi i bambini giocano e nel frattempo si fanno questa visita. Si diventa di creativo. Sì, sì, sì. Benissimo. Conosciamo quest'altro gruppetto, anche se qualcuno forse già l'abbiamo conosciuto, però il nome, vediamo un po' come è andato fino ad ora il calcio, questa esperienza. Giriamoci verso la telecamera? Benissimo. Allora, il tuo nome e mi dici come ti stai trovando fino ad ora nel calcio, in questo sport? Il mio nome è Carlo, mi sto trovando molto bene. E ti piacerebbe diventare calciatore? Sì. Hai un ruolo? Sì. Quale? Difensore. Difensore. Il tuo nome? Gabriele, a me piace molto il calcio. Il mio ruolo è il difensore. Hai una squadra preferita? La Juve. Ciao, io mi chiamo Giovanni e vorrei diventare un calciatore bravo, difensore. Mi piace tanto la Juventus. Segui tutte le partite? Sì. E come sta andando quest'anno? Bene, sta andando la Juve. Ha perso... Bene, sta andando però ha perso. Ne ha perso una? Ha perso una. E va bene, si rifarà. In fondo la Juve è sempre la Juve, no? Certo. Benissimo. Grazie. Ciao, mi chiamo Cristian e mi piace molto il calcio e mi sto trovando bene. C'è una squadra anche tu preferita? Sì, il Juve. E ti piace? C'è un ruolo particolare? Sì, attaccante. Mi chiamo Francesco e mi sto trovando bene. Il mio ruolo è attaccante. E da tanto tempo che fai calcio? Sì, da due anni. Ah, bene. Quindi già sei pratico. E la mia squadra preferita è la Juve. Ok. E io... a me mi piace molto il calcio e la mia squadra preferita è il Milan. E qual è il tuo ruolo preferito? L'attaccante. Benissimo, grazie. Ciao, io mi chiamo Riccardo. Mi piace tanto il calcio. E la squadra? La Juve. E siete tutti juventini? Quando giocano giocano maglia bianconella. Devo dire che prossimamente questi bambini cambieranno squadra, diventeranno tutti milanisti. Perché il mister è il milanista. Non sono d'accordo, non sono d'accordo. Quindi sono decisi ed hanno anche un cuore già sportivo in questo senso. Mi chiamo Samuele. Fare il calcio mi piace. Tifo la Juventus. Da grande vorrei essere un grande calciatore. Il mio ruolo è difensare. Ma chi è il giocatore più bravo della Juve? Vediamo chi me lo sa dire. Trevez, Lorente, Trevez, Lorente, Vitale, Vitale, Vitale. Va bene, va bene, una domanda un po' troppo. Va bene. Grazie, grazie. Mister, cosa aggiungiamo? Vediamo, sono veramente amanti del calcio. Quindi aggiungiamo che, sì, amano il calcio, però la cosa più bella è che vengono al campo con il sorriso e che si divertono. Quella è la cosa principale. poi il resto passa tutto in secondo piano